Sono da una serie delle stampe basate sui disegni piccoli che ho fatto dopo 5-6 anni perché faccio un programma a cui io sovrento, degli studenti americani artisti. Allora ci sto qui ogni estate. Università del? Ogni anno d'estate li ospitiamo, ho avuto anche il piacere di averli al Museo Correale. Non ho capito, scusami. Ho avuto anche il piacere di averli al Museo Correale. Ah sì, ma senz'altro. E vi rinnovo l'ospitalità per il prossimo anno. Sono circa quanti anni? 5-6? Ma questa serie di 5-6 anni, io ci vengo qui da 17 anni. Ogni estate ci vengo con questo gruppo. Allora ho l'opportunità di assorbire questo ambiente. Allora questi sono basati su Solrento e la penisola solentina. Che tecnica è? Queste sono stampe digitali fatte a colori da disegni originali di Chino. Guardati con attenzione si riconosce esattamente il posto da dove vengono. La chiesa della Dolorata con il suo pavimento. Questa è una cappella vicino al botto del Cocomello. Questa è a Napoli, il chiostro di Santa Chiara. Questo è un vecchio panchino, un mattonelle. Il gelato è sempre, che si è aperto. Benissimo, professoressa Ellen, vi faccio i miei auguri e vi aspettiamo con tutti i vostri studenti per la prossima estate. Ci contiamo al Museo Correale. Salute. Grazie.